Mister, buonasera. Un Inter forse un po' diversa tra il primo tempo e il secondo, abbiamo sentito prima anche dalle parole di alcuni giocatori, è mancata un po' di intensità nel primo, ci raccontavano difficoltà un po' a trovare gli spazi, poi invece è venuta fuori nel secondo tempo dove sono state create tante occasioni ed è arrivata la vittoria meritata. Sì, penso che l'analisi sia molto corretta, a primo tempo l'intensità da parte nostra è stata molto bassa in tutte le due fasi, sia nella fase di pressione ma anche e soprattutto nella fase di costruzione, giravamo la palla troppo lentamente, è inevitabile che quando gira la palla in maniera lenta l'avversario riesce a chiudere tutti gli spazi, invece nel secondo tempo abbiamo cambiato i giri e quindi abbiamo creato diverse occasioni anche per fare il gollo, sicuramente il secondo tempo è stato un non buon secondo tempo. Che risposte ha avuto dalla squadra questa sera considerando che sono cambiati sette elementi rispetto all'ultima partita giocata con la Lazio? Le risposte che mi attendevo, è inevitabile che l'Europa League toglie tante energie fisiche e mentali e per questo motivo c'è bisogno di tutti, io sono stato molto chiaro con i ragazzi, c'è una rosa a disposizione, la faremo ruotare, è importante che quando facciamo questo tipo di situazione ognuno si faccia trovare pronto e mi dia delle risposte importanti in modo che mi metta in difficoltà per la partita seguente. Noi diciamo che il primo tempo siamo stati un pochettino poco intensi tutti, mentre secondo me sono state delle ottime risposte. Luca Castellazzi per Antonio Conte. Buonasera mister, io volevo fare una domanda un po' proiettata al futuro. e chiederle la difficoltà per un allenatore come lei di preparare le partite così ogni tre giorni, partite così importanti, perché come ben sappiamo lei è un allenatore da campo e quindi avere così poco tempo vuoi perché serve per recuperare, vuoi perché giochi ogni tre giorni, la difficoltà di preparare partite così importanti in così poco tempo. Sì, non è semplice perché basta pensare che domenica rigiochiamo in campionato una gara per noi importante contro la Sampdoria, ma rientriamo a Milano domani dove chi ha giocato chiaramente farà un allenamento defaticante, mentre con gli altri cercheremo già di preparare qualcosa per la partita contro la Sampdoria, ma alla fine avremo solamente sabato dove saremo di nuovo tutti insieme per cercare di prepararla al meglio. Proprio per questo motivo è importante dare continuità nel lavoro, negli anni, alla fine avere comunque lo stesso allenatore ti facilita in questo, perché poi alla fine quando c'è una continuità di lavoro hai la possibilità poi di preparare le partite in minor tempo possibile, perché il calciatore conosce la tua idea, si sa quello che si deve fare e quindi è molto più semplice. Non ci sono altre domande? Salutiamo il mister. Sì, l'ultima. Volevo sapere cosa ne pensa, visto che secondo lei abbiamo tolto un po' di pressione da Ericsson. Ma guarda, quello che penso e quello che pensavo anche ieri, il ragazzo ha bisogno di trovare la migliore condizione fisica, alla giusta intensità, io penso che anche oggi abbia comunque come tutta la squadra affaticato un bel po' soprattutto nel primo tempo, poi si è un po' più sciolto, è un ragazzo che sicuramente ha qualità e lo dimostra durante la partita, perché ha dei mezzi per essere determinante, sia nella giocata, nell'assist, che nel tiro, nella conclusione a rete. Però non capisco perché ci sia tutta quest'ansia, attorno a un ragazzo che ha 27 anni, che viene dal Tottenham e sicuramente adesso ha prodotto una grande squadra come l'Inter. Bisogna stare sereni tutti e cercare di integrarlo nella giusta maniera, con i giusti tempi, senza farsi prendere da eccessive ansie, ecco perché non lo capisco. Io voglio il bene dell'Inter e quindi farò di tutto per cercare che l'inserimento di Ericsson avvenga nella giusta maniera, perché io voglio il bene dell'Inter. Gli altri io penso che non interessi il bene dell'Inter. Grazie mister. Grazie a voi.